e quindi siamo ad acitrezza con il binaurale magari alziamo un po il livello acitrezza vai contro luce c'è luca che sperimenta il nuovo jimbal allora come facciamo per andare lì su non ci andiamo ci cambiano non so se si vede non so se si vede che se si vede che se si vede ma non so se si vede quando un po di letto immagini questi non so se si vede ecco abbiamo la ripresa e quindi niente ovviamente adesso sto dietro a destra metto la cuffia e facciamo una passeggiatina dai yamme e e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 basta siamo qui, non capisco perché c'è una luce strana almeno qui nel monitor si vede una luce pazzosta, mi ha fatto impazzire e basta, facciamo un'ultima panoramica a giretto dai il mare si sta agitando un pochino. Ecco un'ultima panoramica a piedi e ovviamente sono dietro. Non so se si vedrà, però vediamo la madonnina. No, non è la madonnina, è sempre un santo col cane, la becola, non lo so, forse Gesù. San Gesù, il famoso San Gesù. E' strano perché io appunto l'occhio ormai è abbastanza scuro, mi riusciano a ripresarli, sembrava essere simpaticamente luminoso. Ok, lo faccio interrompere, basta, mi sono staccato.